Oggi si parla di musica. Sì, perché si sta ultimando il progetto che già a giugno vedrà la nascita del CIM, Centro Informatico Musicale Multimediale, un'infrastruttura dedicata alle attività di ricerca e sperimentazione nell'ambito musicale. Verrà tra l'altro riaperto lo storico teatro della Bissuola, sarà sede di uno soltanto dei due principali poli del progetto. Uno, le sale d'armi dell'arsenale di Venezia. Dall'altra parte, il centro civico è appunto il teatro della Bissuola che si occuperà di attività di ricerca di musica elettronica nello specifico. Un altro tratto di questo progetto è che verranno affiancati proprio dei tutor a tutti coloro che volessero intraprendere questo tipo di progetto di sperimentazione in questo ambito musicale. Ma quindi se siete dei dilettanti o perché no di professionisti o anche solamente curiosi di aumentare la vostra formazione in questo tipo di ambito specifico musicale, a tutti coloro che si occuperà la vostra formazione in questo tipo di progetto.